Impianto inquinante e senza autorizzazioni. È con questa ipotesi che la procura di Arezzo ha chiuso le indagini su una società della Valtiberina che trattava rifiuti speciali nell'area golenale del Tevere. Tra gli indagati, i titolari ed un'amministratrice di fatto di una nota società biturgenze, oltre ad un pubblico ufficiale della provincia di Arezzo. Le accuse vanno dal pericolo di inondazione alla contaminazione del suolo e al falso ideologico. Secondo gli inquirenti, infatti, l'impianto per la raccolta e il trattamento dei rifiuti speciali avrebbe agito a lungo in assenza di qualsiasi autorizzazione, ma non solo. Da questo ne sarebbe infatti derivato un pericolo di inondazione o comunque un aggravamento di tale pericolo, vista la vicinanza dell'impianto alle opere di difesa idraulica del fiume. Ed ancora sono stati oggetto di indagine gli scarichi industriali senza autorizzazione, le emissioni diffuse nell'aria, anch'esse senza autorizzazione, l'occupazione abusiva di aree e demaniali, l'illecita gestione di rifiuti speciali e non, e la dispersione incontrollata di reflui industriali con contaminazione del suolo. Infine c'è anche l'ipotesi di falso ideologico per evitare la demolizione di un immobile dello stesso impianto a carico dell'ex legale rappresentante e del funzionario della provincia. L'impianto operava da oltre 30 anni e le indagini sono state condotte dai carabinieri forestali di Sansepolcro coordinati dalla procura. Grazie a tutti.